Apollo ed Ercole, i custodi di Palazzo Leoni Montanari, ci accompagnano in un viaggio oltre i confini del tempo. La mitologia rivive nella sua dimensione universale attraverso preziose testimonianze artistiche. Dall'antichità al neoclassicismo, per il ventennale della sede espositiva. Mito, dei ed eroi. Dal 6 aprile al 14 luglio 2019, Gallerie d'Italia di Vicenza, Palazzo Leoni Montanari.